Donald Trump ha deciso di inviare la Guardia Nazionale lungo il confine con il Messico. L'obiettivo del presidente americano è quello di usare gli eserciti dei singoli stati per aiutare la polizia di confine a contenere il flusso di migranti fino a quando non sarà costruito il muro tra Stati Uniti e Messico. Per ora non sono stati diffusi dettagli né dei costi né di quanto tempo durerà la missione. Già il segretario per la sicurezza interna Kirsten Nielsen in una conferenza stampa aveva anticipato la decisione di Trump, chiarendo con fermezza. Non permetteremo che i livelli di immigrazione clandestina diventino la norma. 300.000 persone all'anno che violano la nostra sovranità nazionale non saranno mai accettabili per questa presidenza. Trump in persona poi ha annunciato la decisione di schierare l'esercito per controllare i 3.145 chilometri di confine. Il muro alla frontiera con il Messico rappresenta uno dei punti più delicati delle sue promesse politiche e uno dei più importanti. Il presidente vorrebbe spendere 25 miliardi della finanziaria dei 1.300 per costruirlo. Un documento firmato da Trump il mese scorso prevede una spesa di 1 miliardo e 6 di dollari per la sicurezza dei confini.